Salve amici del Centrometro Italiano, weekend all'insegna del maltempo sull'Italia con due perturbazioni che transiteranno sulla nostra penisola dal nord ovest verso il sud est. Sabato acquazioni e temporali intensi sono attesi soprattutto al nord est, al centro e sul versante tirrenico meridionale, con la neve che cadrà sulle Alpi fino ai 900 millimetri. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi a partire dal pomeriggio prima di un secondo peggioramento che raggiungerà l'Italia già dalla notte tra il 21 e il 22 dicembre. Il maltempo insisterà da nord a sud con precipitazioni intense anche a carattere di nubifragio, almeno fino alla domenica mattina, quando la perturbazione sarà velocemente sfilata sui Balcani. Residue piogge bagneranno solo sul versante tirrenico centro-meridionale, mentre qualche fiocco di neve è atteso anche sull'Appennino oltre 1400-1500 metri. Per tutti i dettagli su queste nuove fasi di maltempo vi invitiamo come sempre a seguire sia il nostro sito che la nostra pagina YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.